e ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video ebbene ragazzi benvenuti qua a questo nuovissimo e bellissimo video siamo pronti per andare con una grande novità che ci è appena arrivata e ritorniamo indietro e cosa vi viene in mente ritorniamo indietro con qualche mezzo ritorniamo indietro nel futuro ma certo è propriamente lei andiamo ad aprire la playmobil come si può vedere perché della playmobil la back to the future che sarebbe ritorno al futuro andiamo a montare la delorean di ritorno al futuro vedete che bella con i personaggi persino si aprono le le porte è molto molto bella ve la faccio rivedere ma ad ora andiamo a montare a vedere cosa c'è dentro e a fare un bellissimo far vedere propriamente tutto quello che c'è dentro qua a questa macchina da collezione andiamo ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E con questo è tutto. Chissà la prossima volta cosa andremo a montare e a vedere di nuovo. E con questo è tutto. Come sempre, sempre e soltanto Nintendo. Do, non solo.